buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi affronteremo l'argomento delle nu resi farsi la pipì a letto per bambini adulti anziani l'incontinenza famosa il farsi la pipì a letto che soprattutto la causa e psicosomatica deriva dalla mente ora puoi con l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola sederti presso un professionista la tua zona che utilizzi l'ipnosi vera professionale che abbia già trattato casi del genere e risolvere il tuo problema ok senza ma e senza se se non ne ha voglia poi di girare cappelle puoi utilizzare anche l'auto ipnosi l'ipnosi che ti fai da solo con la tua voce la tua stanzetta comodamente senza stressarti eccetera eccetera seguendo il mio metodo metodo dicesse del dottor claudio saracino dalle miei associazioni ipnologi associati di los angeles beverly hills non devi credere ma fare se questo problema dell'enurese il farsi la pipì a letto il tuo bimbo la tua caro eccetera eccetera puoi stare le parole per risolvere il tuo problema parole ad hoc perché l'ipnosi arte e scienza scrivimi un'email a ipnologi associati che oggi la libro punti t visita la mia fan page su facebook ipnosi o di prosa il dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati puntocom iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino a facer condividi con amici parenti perché può essere quella molla quel quitte che gli cambia la vita e risolve questo problema magari che sono trascinano portano da anni e non risolvono mai il problema immagine materassi coperte che più ne ha più ne metta un vero e proprio tragedia possiamo dire per certi versi e visita anche in profili instagram e twitter e benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino al prossimo video un bacio un abbraccio grazie grazie